E' Napoli la città deputata ad ospitare la European Fuel Cell Conference, manifestazione scientifica dedicata alle possibili applicazioni dell'idrogeno e delle celle a combustibile, organizzata per dare un'opportunità di confronto e di dialogo tra i diversi attori coinvolti direttamente ed indirettamente nei settori trasporti, energia ed ambiente. Il tema è quello della riduzione dei consumi di energia, riduzione delle emissioni inquinanti e riduzione dell'impatto ambientale delle tecnologie che vengono utilizzate sia per la mobilità che per la produzione di energia per usi industriali e domestici. A questa conferenza Partenope insieme ad Atena espone biciclette, scooter e anche un'automobile che sono stati realizzati con tecnologie di idrogeno e celle a combustibile per rimanere in tema della conferenza.